Dopo cinque giorni di incontri sul bene, non solo sul bene, però in cui è stato un po' il filo conduttore di tutto il salone, che idea si è fatto su questo tema? Ovviamente è stato declinato come sempre nei modi più svariati. A me piace declinarlo soprattutto nel senso del fare bene le cose, cioè recuperare la passione artigianale, quindi la cura, l'attenzione al dettaglio, quello che poi ha fatto grande la tradizione artigianale italiana. Quindi senza fare tanto dei discorsi filosofici abbiamo cercato di stilare un catalogo delle cose che bisogna fare per cercare di raddrizzare un po' la barca, che come noto sbanda paurosamente. Quindi dalla democrazia, perché oggi la democrazia non si capisce bene che cos'è, è stretta fra le nuove demagogie, le vecchie oligarchie, questa zona grigia di astenuti che delegano e non sanno nemmeno bene perché né per come. Ma poi dico il lavoro, la giustizia, l'economia, la finanza, la bioetica, i beni culturali, i beni comuni, c'è da rifare tutto. Allora si tratta di capire dove andare. Ecco, gli abbiamo voluto dare questa impronta pratica di direzioni da seguire. Bene, posso farle ancora un'altra domanda? Noi siamo il book blog, quindi siamo nella parte dei giovani, dei ragazzi, abbiamo seguito tutti gli incontri del salone, tutti dei ragazzi del liceo. Rimanendo su questo tema qui, cosa si può fare ancora di più per avvicinare i giovani alla lettura? Ci dovrebbero anzitutto pensare alle famiglie, cominciando da piccoli, dall'età prescolare, se cominciano a leggere dalle storie i bambini capiscono subito che a loro piacciono moltissimo, poi quando imparano a leggere vanno avanti da soli, questa è la prima operazione da fare. Poi certo ci vorrebbe una scuola che inculcasse il piacere della lettura invece magari di fare, non tutti, ci sono dei professori bravissimi, però insomma anche lì c'è molto da fare e queste principalmente sono le due cose che ci sono da fare. Perfetto, allora noi la lasciamo al taglio della torta e grazie, arrivederci. Grazie.